Sono circa 4.000 le aziende ambulanti sparite negli ultimi 10 anni in Sicilia, di cui 939 negli ultimi 15 mesi, più di due aziende al giorno. Le aziende ambulanti siciliane nel 2014 erano 21.356. Non è migliore la situazione di Palermo, che passa dalle 6.810 del 2014 alle 5.155 del marzo 2023. In tutta l'isola, dopo aver raggiunto il picco nel 2016, si è registrata una contrazione costante negli anni, sino al 2019, delle aziende ambulanti. Il trend si è stabilizzato nel triennio 2019-2021 a circa 18.700 aziende, per poi crollare nel 2022 a 17.701 attività. I dati elaborati da Confimprese sono tratti dall'Osservatorio del Commercio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre il dato riferito a marzo 2023 è di Union Camere. Trattandosi di attività dichiarata alla Camera di Commercio, il rallentamento delle chiusure intorno al 2020 può essere stato determinato dalle procedure di rinnovo delle autorizzazioni, che, prevedendo l'iscrizione alla Camera di Commercio, ha favorito la riemersione di aziende che erano in attività, ma non più iscritte. Nella provincia di Palermo si è confermato l'andamento regionale, con una flessione di circa 1.700 aziende rispetto al 2014. Solo nell'ultimo anno, per i rinnovi delle autorizzazioni, si è registrata una crescita di circa 300 unità. Riteniamo che per ribaltare l'andamento negativo della situazione del commercio su aree pubbliche, ha dichiarato il presidente di Confimprese Palermo e coordinatore regionale di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice, sia necessario agire su una modifica radicale della concezione di mercato. Occorre lavorare sui siti dove si svolgono e sull'organizzazione degli orari. Fermo restando il ruolo di commercio di vicinato che i mercati svolgono nelle periferie e nei piccoli comuni, continua il presidente di Confimprese Palermo, è necessario individuare aree idonee, che possono essere anche le piazze principali, dotate dei servizi di vigilanza e di sostegno al mercato e ai consumatori, mentre nelle città capoluogo e nei grandi centri abitati bisogna lavorare sull'ipotesi di realizzare mercati in sede fissa, che possano operare anche di domenica e di sera.